ciao amici allora questo è proprio l'esempio classico dell'uso del flash in esterna per togliere i dominanti colori fatto vedere questa foto in modo che rimane anche memoria ai ragazzi qua foto academy guardate questi scatti sono stati fatti a luce naturale la famosa luce naturale all'ombra di un albero che abbiamo un salice piangente e qui c'è virginia vedete e di qua abbiamo messo un pannello su cui in bounce riflettiamo il nostro flash ok torniamo un attimo qua vedete le foto questa è l'esposizione a un f4 iso 100 a un 125esimo vedete la foto esce già così perché in ombra luce molto morbida sfondo con leggero sole va tutto bene tranne guardate la dominante colore guardate questo bel verde non so se si vede sotto il viso il collo di virginia questo è un esempio classico anche su questa foto guardate l'incarnato è totalmente verdastro lo vedete ok il picture control è molto neutro addirittura quindi anche desaturato quindi la vedete anche meno satura di come in realtà è guardate qua le macchie di verde benissimo questo è l'esempio classico fate la foto a luce naturale poi molti devono andare a post produrre per toglier via dominanti che in realtà diventano problemi gravissimi in post produzione guardate sulla mano di virginia quel verde qui a sinistra dal dal salice in ombra ma non solo guardate i capelli guardate il viso allora perché pulire dominanti quando con un colpettino di flash dosato nel modo giusto andiamo a togliere allora se vi piace questa diretta me lo dite vi faccio vedere lo scatto con il flash mettere un pollicino un cuoricino quello che volete ci siete vedo quanti siete online se vi piace ve lo faccio vedere allora uno due tre pochi eh no è sempre lui ma ancora pochi no scherzo allora questa è la foto proprio così come esce luce naturale bene f4 iso 100 a un cento venticinquesimo di secondo ok l'occhio umano non la vede così è questa la differenza se io guardo questa scena adesso il cellulare chiaramente ne risente quanto la fotocamera ma questa scena chiaramente non l'occhio umano non compensa queste cose quindi scattate vi ritrovate queste cose qua verde ovunque ok è un esempio un classicone faccio vedere adesso con l'uso del flash dosato ok lo abbiamo dosato al minimo quindi c'è un impatto del flash ok ma è minimo faccio vedere adesso gli scatti più avanti guardate qui eccolo guardate la differenza sugli incarnati non c'è traccia a vedere di verde chiaramente l'incarnato è anche più brillante adesso esponi bene qua perfetto vedete pulizia si vede il flash nella catch light nell'occhio di virginia ok lo abbiamo dosato quanto per farlo arrivare al punto giusto tale da non snaturare del tutto la foto la vedete più brillante naturalmente ma eccola qua guardate queste sono tutte fatte con il flash qui abbiamo avuto addirittura un rientro in obiettivo per un flare perché mi ero messo io su una posizione non cornavo questa è fabiana eccola qua guardate ok la dominante colore dove sta rimane solo proprio nei limiti delle foglie ma tutto il resto viene pulito così giacomo se non vedono viene pulito totalmente dalle dominanti ok quindi incarnati puliti flash dosato chiaramente una luce diffusa perché abbiamo usato guardate un pannello in bounce se avessi usato un flash diretto l'avrei totalmente snaturata la foto ok quindi manteniamo una coerenza dell'illuminazione un equilibrio tra soggetto e sfondo ma una pulizia dell'incarnato grazie all'uso del flash in fill in ok vi è piaciuta l'avete reputata interessante questa diretta se sì potete iscrivervi al gruppo perché nel gruppo parleremo proprio di queste cose faremo degli esempi live in diretta e di rimbalzo il flash ragazzi guardate cioè che non si è visto forse fa vedere ok abbiamo il flash che va non inquadrare me anche allergia allora qui c'è il flash ok aspettate che metto a fuoco ok flash che va in bounce e va su virginia dosato nel modo giusto adesso sta arrivando anche del sole quindi il fill in fare in modo di evitare questi giochi grafici sul viso macchie di luce ombra totalmente sbagliate perché al di là che ci può stare che l'effetto luce tra i dami ma vedete che queste sono grafiche totalmente errate nel ritratto guardate anche l'ombra questa ombra qua vicino all'occhio queste sono tutte cose da evitare come la peste chiaramente nel ritratto e ecco qua virginia che in questa condizione normalmente sarebbe proprio tinta dal verde perché fra quello che abbiamo a terra tutta la luce diffusa che c'è in ombra ripresa dal sia dall'alto che dal basso in questo modo verrebbe tinta di verde in una maniera che l'occhio non lo vede ma noi la fotocamera assolutamente sì non non perdona quindi uso del flash dosato nel modo giusto e qui adesso non diciamo il come perché comunque questo rimane una cosa che solo i ragazzi qui sanno saluto ragazzi e per il resto per le parti per i temi per approfondire diciamo per le dirette che approfondiranno questi temi qua ci vediamo nel gruppo fotografi lighting system un saluto a tutti oggi credo che sarà l'ultima diretta quindi ciao ciao